Presento io, presento io, presento io, ottimo. Allora, abbiamo due minuti di ritardo, penso, no, non è vero, siamo un po' più in ritardo, abbiamo sette minuti di ritardo, però la serata è molto hype, vedo l'hype nei commenti, penso che il post di Michele ha raggiunto i 200 like, così, senza niente, e vedo già che siamo in 205, quindi fantastico. La serata è interessante, sarà molto piacevole, parleremo di Solo, altrimenti Nazareno si arrabbia perché mi è venuto l'accento troppo sardo, e di Schumpeter, o Schumpeter, a seconda di come lo si vuole pronunciare, e ovviamente faremo noi delle domande a Michele Boltrin, che in questo momento ci ha abbandonato per due minuti, quindi torna fra pochissimo, quindi non abbandonate, ecco il video. Allora, due secondi, il tema della serata, ovviamente il tema della crescita, come si è arrivati alla teoria della crescita, quali sono stati i b-step, cosa diceva Schumpeter, cosa diceva Solo, se c'erano differenze, similarità, la serata è un po' di didattica economica, diciamo. Assolutamente sì, come sapete stiamo cercando di portare avanti questa idea dentro Liberioltre, nel senso di riportare alla conoscenza anche di chi non ha avuto la fortuna, o comunque vuole recuperare un attimo la teoria economica. Un po' più nel dettaglio, abbiamo già trattato, per chi se li fosse persi, World Switch, abbiamo trattato Minsky, abbiamo trattato un po' di scuola austriaca, e oggi tocca a Schumpeter e Solo. Non so, Simona, se vuole aggiungere qualcosa. Se vuoi farci un'introduzione su chi è Schumpeter, chi è Solo, cosa hanno portato alla teoria economica, poi ovviamente noi faremo altre domande da studenti che vogliono imparare. Allora no, facciamo una roba rapidissima, sono due separati da parecchio tempo, quando Schumpeter muore, credo sia il 53 o il 52, non mi ricordo, Bob Solo aveva forse finito il PhD, proprio all'inizio della sua carriera, quindi la sua rapposizione, per quanto è plateale dalle scritte di Solo che lo conosce. Uno è di origine, vabbè ma questi dati biografici li potete trovare su Wikipedia, uno è di origine austriaca, un classico intellettuale europeo, un uomo di un'intelligenza prodigiosa, a me è simpaticissimo anche per la sua sbrufonaggine a volte e per la franchezza con cui diceva le cose. Come frequentemente ha scherzato, a un certo punto fuggito dall'Europa per le solite ragioni, finisce a Harvard e gli, secondo me, gli si incartape e corrisce la testa. Il libro per cui è più famoso nel mondo, in realtà, non fra i tecnici, ma che è Capitalismo, Socialismo e Democrazia, è in realtà un libro confuso, di uno che si è fatto molto prendere dalla sindrome americana degli anni 30-40, ma non importa. Ha scritto dei libri preziosi, la storia dell'analisi economica è ponderoso, ma è mandatory, continua a essere a mio avviso la migliore esposizione di quella parte dell'analisi economica che è analizzabile. Aspetta un attimo che gli ulteriori studenti, oggi ho passato la giornata con studenti per lavoro. Vai tranquillo. Scusatemi tutti, se sentite i click, sono i messaggi di WhatsApp che arrivano attraverso computer di persone che mi ricordano questo e quello. Quindi va letto, ma va letto con un po' di attenzione, poi magari vediamo perché lo considero un libro erroneo. C'è una parte molto interessante di storia del pensiero, Capitalismo, Socialismo e Democrazia, poi l'analisi di quello che sta succedendo secondo me è erronea. E infatti la storia l'ha dimostrata erronea. Tutti gli altri sono molto più lucidi, ripeto, la storia dell'analisi economica va assolutamente studiata perché praticamente fino agli anni 40-50 è la miglior cosa che c'è. Dopo diventa difficile fare storia dell'analisi economica perché diventa una nuova molto più complicata. Si può provare, ma nessuno in realtà ci ha provato bene. Il suo libro più bello, secondo me, i suoi due libri più veramente insightful e geniali sono Theory of Economic Development e il mega librone sui cittadini economici. Che vanno letti assieme perché lui chiaramente in mente le due cose ce le ha assieme, la crescita e le oscillazioni. E in questo senso, se volete proprio darmi un'etichetta, visto che tutti vogliono darmi un'etichetta, liberista, fascista, comunista, dadaista, cretinista, chiamatemi tranquillamente sciumpeterista. Non sciumpeteriano perché è una di queste cose che hanno adottato per dire cazzate gli economisti finti. Però sciumpeterista, ricorda anche interista, secondo me va bene. E poi vediamo perché. Solo viene dopo, solo un classico prodotto MIT, devo dire che è un uomo geniale e simpaticissimo, oltre che un fantastic sailorman. Quando diventerò vecchio pubblicherò una stupenda lettera personale sua che ho perché adesso non lo posso fare. in cui dice delle cose molto sagge e posso dire... Io pagherei per avverla. Il giorno in cui mi fido di te ti faccio uno scanner. Allora, qual è la mia opinione? Solo è una roba diversa, nel senso che lui... Le ragioni per cui Solo è famoso non sono le ragioni per cui Solo, secondo me, è un grande scienziato. Lui ha scritto delle cose interessantissime a seguito delle cose per cui è diventato famoso, per cui ha preso il premio 9, cioè la TFP, dopo ne parliamo, che dicono guardate che scherzavo, cioè era un punto di partenza, era una maniera per stimolarvi a guardare il problema che è molto più complicato. E invece, purtroppo, quelle cose di Solo le citano ma non hanno avuto seguito. TFP, qui ci vorrebbe una puntata sulla sociologia, della progressione economica, su perché si continua a giocare con le semplificazioni per avere la papa pronta, ha avuto il successo che ha avuto e che tutti conoscete, ed è diventata questa specie di brodaglia mondiale, qui tutti calcolano TFP a cazzo. E questo cerchiamo di spiegare perché tra le cose su TFP sono veramente a cazzo. Sì, sì, poi magari spieghiamo anche... Cazzo, cioè, tra l'altro, l'ha anche detto. Sì, poi magari spieghiamo anche perché ci sono vari calcoli della TFP, non è un unico modo di calcolarla. Cioè, sono 100.000 modi, perché fondamentalmente è una specie di... come giustamente lui, poveretto, ha anche insistito, è un residuo che misura solo l'ignoranza del modello che sto usando, quindi ovviamente, dipendentemente dal modello, la tua ignoranza varia e dipendentemente dai dati che hai a disposizione, la tua incapacità di account for varia. Ci sono altre due ragioni per cui solo... Più che ignoranza, quello che non riesci a spiegare, diciamo. Sì, quello che il modello non riesce neanche lontanamente a catturare, o ben perché il modello è troppo semplificato, o ben perché i dati che hai a disposizione non riescono a misurare ciò che nel modello si simbolizza e si utilizza, sia una ragione sia l'altra, così è, ok? Poi ci veniamo. Finalmente la scelta però che dica, perché visto che stiamo parlando in italiano, solo è anche famoso per altre due ragioni, una più in America. Lui è molto chinesiano, ma la ragione per cui è molto chinesiano è che lui è molto di sinistra. Una sinistra molto classica, ha niente a che fare con i Felice, le Mazzucato, questa cianfrusaglia che gira adesso in Italia. Però lui è di una sinistra molto libera, molto classica, molto kennediana, se volete, o johnsoniana, ok? E quindi c'è tutta una parte in cui si è dedicato molto a fiscal policy e policy, in cui ha preso posizioni anche forti, e qui però usciamo dal tecnico. Bob è anche uno, solo è anche uno che, e su questo io sono in parte d'accordo con lui, solo che andiamo su un'altra domanda, che dice guardate che quello che riusciamo a fare con metodi almeno che vorrebbero essere scientifici in economia arriva fino a un certo punto. E questo punto non è molto là, perché sono casini, è una roba complicata. Però se non vogliamo parlare anche di policy, di economic policy, per carità facciamolo, ma facciamolo senza tarsi delle aree di scientificità, perché non ce l'abbiamo. Lui è stato molto critico, veramente feroce di Rational Expectation Revolution, Lucas, cioè con Lucas proprio ha avuto dei rapporti anche pesi, lasciamo stare il personale, con Sargent, poi sono un po' pacificati, ma sono negli anni in cui avevano... Anche con Friedman, no? Cioè giusto per citare. No, con Friedman questi c'era più una roba, c'era anche un meccanismo generazionale distante. Sì, diciamo che con Friedman l'ha preso in giro. C'era Cambridge, Massachusetts, che faceva la sinistra, c'era Chicago, Illinois, che faceva la destra, ed era un gioco delle parti. C'erano due signori brillantissimi, peperissimi, polemicissimi, e entrambi pelati in testa e non particolarmente alti, che polemizzavano una brillantezza unica l'uno contro l'altro, e cioè Gary E., Milton Friedman e Paul Samuelsson, e poi c'erano due o tre personaggi attorno, Al Harberger a Chicago, e Bob Solo e Franco Modigliani a MIT, che facevano squadra. Poi sono spuntati Luca, si sa, gente eccetera, con un apparato tecnico mostruoso, gli hanno smontato brutalmente, e giustamente, i modellini che usavano, solo gli altri si sono incazzati, in parte perché, credo ragionevolmente, hanno detto, occhio, che tutta questa idea che avete, secondo cui voi fate scienza pura, anche su economic policy, è un po' una fantasia. Quindi, alla fine, l'economic policy facciamola anche a intuizioni, a gazz, a dibattiti, a, se volete, pregiudizi, perché la vostra stima è tanto buona quanto quella della zia Antonietta. Prego. C'è da dire anche che, appunto, molto spesso non hai la possibilità di avere il controfattuale, quindi devi, appunto, andare per intuizioni, perché non puoi avere la certezza di alcune cose. Anzi, alcune volte vorreste avere il controfattuale, ma averlo sarebbe un bel problema, quindi forse... Si, promettiamo di mettere in scaletta una puntata su Robert e su Sargent, perché è anche su Tesla. Vabbè, vabbè, ma lasciatemi finire, volete la descrizione di due personaggi? Allora, comunque, quindi troverete un solo polemista su quello, se leggete, col quale concordo in principio, ma non le conclusioni che arrivano, ma perché le mie priori, le mie impressioni, i miei anedoni, le mie intuizioni, sono le opposte su questo. Ma va benissimo, cioè ci si può discutere e via andiamo. Un'altra ragione per cui nelle università italiane spesso, appena i temi miei solo, veniva sbeffeggiato è perché purtroppo, ma dovreste davvero, trovare un neoricardiano italiano. Anzi, guarda, se il professor Lippi, con cui sono amico e di cui dobbiamo discutere nel futuro, privatamente, di questioni tecniche, fosse disposto, io ne vorrei che si discutessi. Perché gira ancora, anche se di minoranza, le università italiane di teoria, specialmente del mondo romano, modenese, eccetera, una forma di sraffismo marxista secondo cui con i dibattiti degli anni 60 hanno dimostrato che le cosiddette teorie neoclassiche non stanno in piedi. Solo ebbe la colpa o la responsabilità, effettivamente, di uscirsele con un'affermazione francamente erronea, tecnicamente, che Samuelson decise che era corretta, fece addirittura, sputtanandolo per sempre, io credo, provare a un tale vari il teorema, che era falso, lo pubblicarono addirittura sul QJI, ma lì, come disse una volta il mio amico David Levine, QJI is a specialized journal, specialized in wrong results, hanno un track record di teoremi falsi che fa ridere, me ne ho beccati due anch'io, e questo permise al mondo sraffiano, robinsoniano, cambrigiano, in cui gli italiani erano da parte, se volete dei nomi famosi, beh, i due più famosi sono Garegnani e Pasinetti, Pasinetti prima e Garegnani dopo, ma c'era anche Spaventa, Domenico Mario Enuti, che non ci sono più, e tanti altri, che avevano distrutto la teoria neoclassica. Purtroppo è una cretinata, ma è una cretinata in cui MIT si è cacciato, nonostante appunto quelli più saggi come Arrow, McKenzie, Hurwitz, Uzzawic, ma che cazzo andate a dire, perché c'è discussione assurda, piantata sul nulla, è una roba di galletti, tutti in realtà affascinati, perché erano tutti innamorati di John Robinson, e la volevano convincere, non sto scherzo, erano troppo affascinati di John Robinson, e quindi tutto il dibattito sulla teoria del capitale, una volta dovreste invitare a qualcuno che continua a pensare che quella cosa sia stata scientificamente rilevante per discuterne, visto che avete un pubblico studente. Buono, questi sono i due personaggi, dopodiché facciamo domande. Non so chi vuole iniziare, vorrei mettere io, un attimo con un confronto, subito. Allora, Schumpeter penso che sia tra i due il più famoso, se non altro perché si studia in corsi anche diversi, non si studia solo in economics, ma anche in azienda, per ovvi motivi. Volevo quindi fare una domanda, un confronto. Il ruolo dell'imprenditore per solo esiste, è simile a quello di Schumpeter, completamente contrario, o che cosa? Cioè, l'imprenditore esiste per solo, l'imprenditore innovatore, oppure arriva tutto dall'esterno in maniera, la tecnologia è data e l'imprenditore semplicemente la deve usare? Aggiungerei. Allora, posso dire tu? Posso, Michele? Scusate, secondo me è importante. Scusate le cattive letture. Secondo me è importante aggiungere anche... Noi citiamo la domanda malposta, prego. La differenza, diciamo, che viene data anche da solo Schumpeter, se esiste, tra chi innova e chi crea. Secondo me è questo un concetto che se passasse al grande pubblico sarebbe assolutamente importante. No. Dici no? No. No, davvero, lasciate, questo mi sa che stasera mi tocca fare il professore, anche perché vedo già frase, ho appena risposto a qualcuno che dice, no perché Ricossa denunciò le bugie di Sraffa, Ricossa, poi aveva detto, era un altro che avrebbe dovuto studiare invece di scrivere. Ho capito che a chi si sente liberale è libertario, gli sembra un eroe, perché in Italia diceva viva la libertà di mercato, però dire solo viva la libertà di mercato, senza avere argomenti tecnici, fare la figura del pirla, e Ricossa lo fece parecchie volte, quindi Ricossa non ha mai detto niente irrilevante su Sraffa, punto e fine. Chiunque affermi il contrario venga da me e mi mostri i papers con le prove, i teoremi, eccetera, eccetera. Allora, Schumpeter, leggetemelo, i primi tre capitoli di Theory of Economic Development sono, se volete facciamo share screen, sono piuttosto semplici, non è impossibile leggerli, la parte seguente non vale la pena, perché la parte seguente è altamente influenzata da un dibattito europeo, molto nel mondo di lingua tedesca, del tempo, sui tassi di interesse, la giustificazione del tasso di interesse, il rendimento del capitale, Ben Baverk, e via via, in cui, in cui francamente si perde. Ok? Allora, i primi tre capitoli invece sono geniali, perché? Perché bisogna pensare a quando sono stati scritti, il libro in tedesco venne pubblicato nel 1911, ok? Venne pubblicato nel 1911, quindi è stato scritto negli anni precedenti, quindi con pochissimi dati a disposizione, e questo dice, e questo dice, ragazzi, qua, c'è la roba da spiegare, è la crescita, ora voi dovete capire che tutta l'economia cosiddetta classica, ma anche quella chiamata neoclassica, fino a Schumpeter, della crescita se ne fotte. Sia in termini di interessi, sia in termini di proprio modellistica, questi parlano continuamente di stato stazionario. Adesso lasciamo stare i dettagli, in uno lo stato stazionario perché è malthusiano, nell'altro perché vuole trovare il valore essenziale delle merci e i prezzi di lungo periodo, nell'altro ancora perché vuole fare l'analisi statica parziale e fare il Marshall, quello che volete voi, il punto è che la roba crescita nel senso di aumento persistente dei livelli di reddito, diffusione dell'aumento, aumento della produttività del lavoro costante per periodi di tempo molto lunghi, è completamente assente se non in forma come dire anedottica, nel dibattito economico del tempo e viene il più ridotto a cose del tipo questo paese è più ricco dell'altro e più benestante dell'altro ma non vuol dire niente, non c'è un'analisi. Schumpeter per primo dice oh, sveglia cazzo, sono 150 anni, 160 anni che il reddito sta crescendo in Europa e in giro per il mondo a ritmi e livelli in cui non era mai cresciuto prima. Dice anche, guardate che è cresciuto anche delle altre volte e su questo è un altro argomento nel passato, però adesso sta crescendo regolarmente. La tendenza che avete o che abbiamo di spiegare è il fatto che cresce perché risparmiamo e quindi di modellarlo nella forma di un'economia così agricola, statica in cui la produzione, l'output cresce perché facciamo dei bravi risparmi, mettiamo da parte ogni anno parte del raccolto eccetera eccetera consumiamo così accumuliamo è una cretinata. Perché? Perché se guardate nei fatti i dati e cercate di spiegare la crescita che abbiamo davanti con questo argomento che ci starebbe se volete in un modello classico di stato stazionario senza cambio tecnologico e ti porterebbe a quella che viene chiamata la crescita bilanciata. La cosa divertente è che lui distrugge la crescita bilanciata come rilevante empiricamente non come modello teorico è utilissimo ma distrugge l'idea di utilizzarla per capire la realtà prima ancora che qualcuno scriva il paper dove c'è? Perché al tempo nessuno aveva scritto balance growth paper il primo a scriverlo decentemente è von Neumann letteralmente 20 anni dopo 25 quindi da questo punto di vista il giovane Schumpeter era veramente un personaggio geniale dice guardate che quello lì è il fenomeno e allora se volete cercare di spiegare la realtà e lo guardate un attimo bene e guardate che il fenomeno principale da cercare di capire è fatemi vedere proprio i pezzi di una classica edizione che ho qua in pdf il problema di capire è questa cosa Michele se riesce a sommare un attimo perché non vedo io sì ma è solo per farvi vedere i continui di leggere vediamo se arrivo uno stesso questo non so se è quello che ho scannato una parte mia sottolineata o se è uno che uso per gli studenti perché probabilmente no allora dice Schumpeter se guardate vi rendete conto che la crescita viene dal seguente fatto e cioè che molti di noi alla mattina si svegliano e fanno una cosa diversa da ieri che gli fa proprio un'osservazione profonda e vanno facciamo una cosa e milioni di cosette diverse da ieri siccome sono motivate dal desiderio di cercare di vivere meglio creano progresso tecnologico poi dice per carità poi ce ne sono di cose diverse da ieri gigantesche adesso che uno un giorno dice oh ho trovato una maniera più o meno di fare il motore elettrico e questo non è esattamente come ho trovato una maniera di spostare il chiodo che così attacchiamo il legno meglio è una roba di altre dimensioni quindi non tutte le innovazioni sono uguali però dice fondamentalmente questo perché d'altra parte ed è questa la parte sul circular flow ok se voi provate a pensare a un'economia davvero statica eccolo qua questa è la sua introduzione questo è il capitolo chiave se voi pensate davvero un'economia statica in cui la gente davvero fa sempre le stesse cose in cui davvero la tecnologia non cambia mai ok quindi c'è davvero nessuna innovazione allora è ovvio e questa è una conservazione molto importante empiricamente che ha a che fare con i modelli di stabilità dell'equilibrio economico è ovvio che in economia del genere dopo un po' ci sarà la convergenza e una stabilità anche nei prezzi e nelle quantità e cioè che tutti ripeteranno sempre le stesse cose perché se davvero non cambia niente non c'è nessun shock non c'è nessuna innovazione i prezzi relativi tenderanno a stabilizzarsi le quantità di cose offerte i rapporti fra di esse continueranno a stabilizzarsi e allora dice e qui crea a parole il modello di crescita bilanciata se tutta la crescita viene dal risparmio sì domani fra un anno c'è una gallina in più invece di avere 80 galline ne ho 81 e quindi c'è una specie il pallone si gonfia e tutto rimane invariato perché crescono le galline crescono i maialini cresce il grano cresce l'uva cresce il pane crescono i figli cresce la terra che coltiviamo ma l'economia fondamentalmente non cambia va benissimo queste robe sono anche successe nella storia quindi io invito a leggere guardate fino a fatemi giù fatemi che mi mostri ecco basta già credit and capital leggetelo ma è una maniera per vedere quanto confusi si poteva essere senza usare un po' di matematica perché qua sta cercando di però è importante perché c'è questa parte qua su cui veniamo cioè questo è il primo tra l'altro che capisce che il credito la funzione fondamentale del credito è spostare risorse da chi le ha accumulate a chi ma non ha idee buone per usarle a chi non le ha accumulate o non ne ha accumulate abbastanza ma delle ottime idee per usare risorse se non sbaglio prima di Schumpeter c'è l'idea proprio del del capitalista che accumula investe mentre c'è certo Marx l'idea classica è che il capitalista accumula investe e sia chiaro storicamente è anche ragionario perché non è che il sistema creditizio dell'Inghilterra di Adam Smith o di Riccardo fosse la fine del mondo e quindi il problema dell'accumulazione primitiva come lo pone Marx eccetera non è che fosse così strano però Schumpeter che guarda un mondo diverso e vede la tendenza e dice occhio perché la crescita del sistema del credito ha anche questa funzione c'era una domanda che veniva dal pubblico che appunto ti interrompiamo appena ti fermi sei un fiume in piena da una parte e dall'altra siamo affascinati però appunto è più tecnica veniva questa domanda dal pubblico ovvero come facesse Schumpeter a utilizzare la matematica in quegli anni cioè io immagino io che magari uso Excel o Nazareno che usa Python o R o Simona che usa chissà cosa altro usa per non impersonificare uno specifico software però come faceva a analizzare i dati sembra una stupidata se voi leggete The Theory of Business Cycle vedete che un po' i dati al tempo si cominciano a utilizzare cioè questi sono gli anni in cui nasce e in Germania è molto più avanzata che altrove perché ci sono gli istituzionalisti eccetera eccetera nasce la statistica nazionale si cominciano a ok quindi e quindi lui se voi guardate proprio guardate non so neanche che lo leggiate guardate The Theory of Business Cycle lo vedete e per carità ragazzi cioè sono robe elementari non è che sia quelle cose che fa Nazareno o peggio ancora quelle che fa George Levy Gale il mio collega che fa micro micro econometrics sono delle robe primitive e non c'è il computer infatti The Theory of Economic Development non ha mezza formula ok sì è vero però le intuizioni devo dire comunque sono geniali io mi ricordo guarda un po' di dati guarda un po' di fatti e e insomma capito allora andiamo mi sono un po' perso sì stavamo parlando appunto della figura dell'imprenditore diciamo che dal punto di vista comunque dell'innovazione più che dell'imprenditore dal punto di vista di Schumpeter è abbastanza chiaro che la crescita derivi da mi alzo una mattina faccio qualcosa di diverso e quel fare qualcosa di diverso può portare alla crescita invece per solo cos'è che allora lui dice perché la parte bisogna anche capire come funziona il modello dovete leggere qui tre capitoli per quello lui dice allora in un'economia statica dove non c'è innovazione abbiamo un flusso circolare quello studiato dall'economia classica e dai modelli varrasiani ed è ragionevole pensare a quel flusso circolare come un flusso dove è tutto facile che si equilibri ok dove i prezzi relativi non cambiano e quindi questa visione di staticità serena dell'economia dell'equilibrio varrasiano se volete chiamarlo così o le sue sviluppi più recenti funziona però nella realtà è diverso perché c'è continuamente della gente che per ragioni di profitto e qui lui è fondamentale lo fa capire chiaramente dice e contrariamente a Capital in Social in Democracy nel libro buono di Schumpeter dice l'imprenditore la gente cerca continuamente di competere con quelli accanto certo lui sottolinea l'imprenditore poi se lo leggete attentamente vi rendete conto che quasi tutti sono potenzialmente imprenditori nella testa di Schumpeter come nella realtà cioè voi tre anch'io siamo imprenditori cioè facciamo delle cose certo nel mondo di 150 anni prima non erano così tanti imprenditori perché una grande quantità di persone vivevano in condizioni di indigenza con vincoli addirittura feudali con estrema povertà ristrettezza ignorante è caduto Michele vabbè può succedere aspettiamo un attimo che si riconnetta comunque ho scritto metti in evidenza il sì 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 l'ho messo in evidenza però vedo che comunque ho mettila anche quello in inglese dovrebbe essere cioè su Amazon ci sono tutti ragazzi se scrivete non ti sentiamo Michele non ti sentiamo adesso sì scusate mi colpa mia ho toccato purtroppo le connessioni via porto esterno che ho in casa del laptop con i vari due camere due microfoni tre video sono delicate quando lo tocchi un attimo si disconnetta orrai e quindi lui dice potenzialmente e tendenzialmente che con l'allargarsi le opportunità tutti cercano di fare gli imprenditori quindi l'innovazione è un meccanismo continuo indotto dalla competizione di mercato in quel mondo lì c'è una grandissima incertezza e devo dire che scrive delle parole delle pagine interessantissime considerati i tempi e la mancanza di matematica adesso mi taccio vi faccio oh c'è il mio amico Giorgio Arfaras ciao Giorgio carissimo cos'hai scritto adesso devo leggere cos'ha scritto Giorgio ah beh ecco a Giorgio si potrebbe invitarlo per una riflessione su quel mondo lì lui ha qualche anno più di me però avendo vissuto da Modena ciao carissimo allora Giorgio un economista molto serio che dovreste leggere scrive in particolare per ecco lì io mi sbaglio sempre se è il centro in Audi di Torino la fondazione comunque quello lì Giorgio adesso magari mette un commento e ce lo spiega allora lì l'intuizione è veramente chiave dell'uomo perché lui a un certo punto leggete c'è uno dei pezzi in cui si pone il problema di rational expectation a parole perché dice l'imprenditore che domani perturba quel mercato perché introduce una cosa nuova deve anche chiedersi non se può far profitti ai prezzi di oggi ma nella misura centro grazie Giorgio centro originale di Torino nella misura in cui ha percezione che la sua innovazione cambierà domanda e offerta sia nei mercati dei fattori che nei mercati degli output deve chiedersi se può far profitti dei prezzi nuovi cioè quelli che si determineranno sia nei mercati degli input che nei mercati degli output quando lui avrà fatto l'innovazione cazzo ragazzi questa roba pensate al 1909 ve lo posso dire è più di mezzo secolo avanti ok perché si pone in una maniera molto più precisa di Keynes che vent'anni dopo blatterava su forecasting the forecast of others sì davvero geniale ma un po' un po' alla Marco Travaglio ecco no 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 quella è un'offesa con John Maynard no vabbè però insomma un chiacchierone cioè delle volte era brillante ma chiacchierone un giorno vi dovete regalare una lezione su The Economic Commission of Our Grand Children su cui ho scritto uno dei miei articoli meno noti ma più divertenti che mi piace di più li recupereremo e faremo un video recuperatelo io mi sono scoconato da ridere mi scrive quella cosa e a firma mia e di David però credo che David non si incazzi se dico che l'ho scritto al 90% io perché ho detto guarda lasciamelo fare perché mi sto divertendo troppo tanto lui ha scritto robe molto più serie poi mi ha messo il nome mio quindi e va anche detto e allora questa cosa che lui ragiona su questo cioè sull'effetto e sulla necessità di riuscire a crearsi aspettative di quello che succederà perché tu innovi l'altro innova quell'altro innova e dobbiamo vedere come cambiano i prezzi relativi è avanti e non c'è matematica perché l'uomo non la sa usare se leggete anche History dell'analitica economica fa qualche grafico scrive due formule ma insomma a livello di Rocco ecco il mio labbra non vi più però ha una mente notevole riesce a essere molto logico poi c'è degli svarioni è uno di quelli che tu lo leggi e dici ecco vedi che i modelli servono perché adesso con quella capacità che hai con queste intuizioni se me lo metto un attimo formalmente riesco a tirare una quantità di deduzioni che tu non ci riesci e però il modello del capitalismo della crescita del mercato ma neanche del capitalismo del mondo che lui ti descrive è questo c'è una specie di sentiero stabile di crescita spontanea senza innovazione molto regolare che è continuamente sottoposto a perturbazioni di gente che innova spesso piccole alcune volte molto grandi che fanno deviare e produce i cicli se poi vi leggete dopo aver letto quei tre capitoli vi leggete Business Cycle voi capite che lui prende questa teoria sbozzata e la mette al lavoro sui dati ecco questo è Schumpeter il Schumpeter della teoria della crescita c'è una domanda da parte di Mariano che ci chiede appunto se un modello matematico statistico può prevedere mai comportamenti di ogni singolo attore di ogni mercato io così azzardo già una risposta no poi non so se mi chiede è d'accordo con questa visione abbastanza scusami non ho letto perché purtroppo continuo a ricevere no se è possibile dopo di voi qua di St. Louis perché potete recuperare e gli ho cancellato una settimana e mezza di classi quindi questi poveretti devono scrivermi dei peperi hanno anche ragione e quindi mi stanno bombardando di messaggi quindi se delle volte vi sembro absent è perché c'è uno che mi ha scritto tre volte lo stesso messaggio prego domanda un modello matematico statistico per vedere sul lungo periodo di ogni attore in ogni mercato ovviamente no nessuno ha mai avuto chi lo dice è un buffone punto fine si va su un medio intervalli di confidenza in più vai vai Simo domanzate la prossima ma restiamo un po' sul tecnico ecco della caccia questo è Schumpeter e ecco presentato così a questo punto solo il solo noto arriva bene che si inserisce però andate avanti voi dai un po' che sto un po' zitto io invece avevo una domanda che riguarda Schumpeter però paragonato non a solo ma a sé per quanto riguarda il ruolo dell'imprenditore spassano circa 100 anni credo tra uno e l'altro quindi vorrei sapere qual è la differenza della figura dell'imprenditore tra Jean-Baptisset e Schumpeter ma insomma in Schumpeter è organico in sé tutti questi è un po' l'arrivo del nuovo del nuovo eroe che non avevano visto prima c'è ancora anche capire che la libertà di impresa che poi l'imprenditore di sé è più che altro un mercante più che un imprenditore industriale no? prima pensavo passare a Sidi a Marzi a Sen dopo hai detto Jean-Baptiste avevo capito a chi ti riferivi non ha una funzione è questa specie di titano che vede che ci sono i prezzi no? nei differenti mercati e dice ma ne approfitto qua c'è guadagno da fare ed è anche quindi utile socialmente perché sposto le merci e gli oggetti da dove sono da dove sono abbondanti a dove sono scarsi e così facendo no? Molto altro non dice non è che ci sia l'idea dell'innovazione e così via diciamo che se appartiene a quel gruppo di economisti decisamente classici che vengono in fondo dalla sono funzionali dello Stato parecchi e che comincia a intuire i meccanismi di mercato però non c'è la visione della crescita no? Non so fra tutti i paragoni questo mi è sorpreso devi conoscere dei testi di sé che io non conosco perché quello che io conosco di sé non insomma più descrive il commerciante ma non fa no? Il catechismo d'economie politiche non è che dica delle cose straordinarie però insegnami tu qualcosa così perché pronto? No infatti io sapevo insomma ho letto appunto che se introduceva questa figura era una figura in realtà dell'imprenditore che iniziava a intravedersi in quel periodo in realtà credo non solo in sé ma in generale nell'ambiente francese però appunto volevo sapere se però mi sa che si introduce di nuovo nel quadro statico versus dinamico che insomma abbiamo già parlato prima no lui è noto o cattivamente noto a molti perché correttamente cerca di sviluppare una nozione di equilibrio e si rende conto con rudimenti di contabilità nazionale che deve essere vero in un certo senso che ad ogni momento per ogni periodo di tempo deve succedere inuguaglianza fra domanda e offerta ok poi lui l'esagera assume vabbè questa è una questione controversa la cosiddetta legge di sé che alcuni confondono con quella di Varra è che quella di sé non è molto precisa mentre quella di Varra è molto precisa e tecnicamente corretta quella di sé è un po' ambigua perché c'è questa idea che l'offerta crea la sua propria domanda la qualcosa in parte vera in un senso tautologico nel senso che anche se l'offerta è sbagliata non la vuole nessuno o ben per riduzione del prezzo o ben per svalutazione del capitale via il fallimento dell'impresa ho creato la mia propria domanda che non è molto profondo però devo dire però io non conosco un testo in cui però non è che sia un esperto disse in cui è sparito Lumberto in cui lui discuta il problema della crescita e il ruolo innovatore in Schumpeter è molto chiaro l'innovatore è chiunque cambi la maniera in cui facciamo le cose in un certo senso è innovatore anche il consumatore e da qualche parte senza dargli troppa importanza lo dice il consumatore che cambia i suoi habit che cambia i suoi gusti innova crea a questo punto direi di passare a solo ma aspetta c'è un'ultima cosa perché ho visto un'osservazione di Giorgio sì ecco io non sono del tutto convinto io credo che quella allora esiste una roba fra cui questi che si autodefiniscono austriaci si fanno delle pippe gigantesche e per questo gli piace Inrand e Atlas e tutta sta roba qua in cui l'innovatore è una specie di come si chiama quello che è andato a prendere il fuoco agli dei Prometeo no o qualcuno che discende gli inferi o va nello spazio o vola e roba di questo tipo e quindi è guidato da questo spirito imprenditoriale di cui molti si fanno delle grandi pippe e ora in alcuni rari casi è vero cioè probabilmente Steve Jobs assomiglia no? caratterialmente a questo però se io guardo la realtà economica e la storia del mondo posso dirlo certo chi fa attività imprenditoriale piccolo o grande che sia è un po' più propenso al rischio un po' più coraggioso un po' più capace di gestirsi da solo di chi non la fa però alla fine la grande maggioranza del crescita economica viene da milioni di piccoli imprenditori che magari nascono piccoli e poi diventi grandi non si è detto che piccolo deve essere sempre il bar ma di uno che che fanno piccoli cambiamenti quotidiani e va anche detto che se dovessimo prendere questa cosa letteralmente avremmo una strana un rumore che arriva da qualche parte Simo prova a mutarti un attimo se prendessimo questa visione un po' Ayn Rand eroica o classica dell'imprenditore letteralmente dovremmo concludere che c'è stata una mutazione biologica sostanziale nell'umanità ok perché il numero di imprenditori oggi di persone che fanno attività imprenditoriale è enormemente più alto del numero di persone che fanno attività imprenditoriale un secolo circa fa i tempi di Schumpeter e che quindi se tutto questo dipende dalla personalità e dal carattere la mutazione è stata sostanziale ma non solo in Cina c'è stata una mutazione biologica interna con alterazioni genetiche dei viventi mostruosa fra 1979 e 1989 e quindi starei un po' attento a dare a me si diventa o non si diventa imprenditori per carità in base a milioni di condizioni sociali e legali ma soprattutto dal fatto che c'è opportunità fai un certo lavoro io mi considero un imprenditore nell'essermi messo a fare youtube ho fatto imprenditoria ho spostato come mi è appena arrivata l'attenzione e anche voi lo siete nel fare questo e lo siamo in tutte promette grazie quindi io starei un po' attento a me interessa analiticamente l'osservazione schumpeteriana esistono individui tutti possono essere imprenditori a seconda delle circostanze di mercato delle conoscenze degli incentivi del grado di concorrenza esiste un gruppo di individui che cambia la maniera di fare cose e questo genera crescita economica alcuni lo cambiano in maniera sbagliata la maggioranza sembra riesce a cambiare la maniera dritta e questo fa aumentare la produttività e lì arriva solo perché allora schumpeter ti racconta che questi fanno e solo cosa fa solo prende i dati aggregati schumpeter ti racconta una storia che sia micro perché parla di milioni di persone sia di equilibrio economico generale ma dove si ricorda che ci sono milioni di persone solo se volete purtroppo anche perché i dati di contabilità nazionale sono quelli parte da una roba aggregata rappresentativa prende i dati di contabilità nazionale e dice santa madonna se io a questo ci applico una qualsiasi funzione di produzione cerco di spiegare la crescita del reddito pro capito con la crescita delle ore lavorate pro capito per centra della popolazione e dello stock di capitale misurato a dollari correnti manco cazzo mi rimane che la volta che la giri un residuo gigantesco e questo residuo gigantesco deve misurare in qualche maniera il fatto che effettivamente il capitale del 1954 non è il capitale del 1952 non è il capitale del 1950 è ancora meno il capitale del 1937 che dentro le macchine che pure valgono 100 dollari adesso come valeva nel 1937 hanno una tecnologia e una capacità produttiva che è ben alta di quella del 1937 e anche il lavoratore sia esso ingegnere o non ingegnere che opera con queste macchine in relazione produttiva ha degli skin delle conoscenze che sono ben altre da quelle che aveva nel 1937 questa cosa che non so misurare ma che è schumpetrianemente la fonte della crescita economica la chiamo Total Factor Productivity si è mai dato un nome super sexy devo dire genialata sì sì perché se l'avesse chiamata questa cosa è non lo so le scarpe di cenerento la forza non avrebbe avuto uguale successo e lì c'è un residuo che misura la incapacità del nostro modello aggregato di catturare il processo sottostante questo è il solo che tutti conoscono e di cui credo vogliate parlare perché è quello legato alla teoria della crescita allora non so visto che non c'è nessuno mi butto io c'era una frase che tu hai detto nella live sul bitcoin che mi è rimasta in testa poi noi ci eravamo già organizzati per fare questa live ed è rimasta lì cioè la distruzione creatice schumpeteriana in particolare affermavi appunto che un'economia che appunto per un motivo o per l'altro non riesce più a non crescere a sostenersi nei momenti di shock quindi c'è la necessità appunto di banca centrale che fornisca liquidità al sistema appunto dicevi se distruggiamo tutto il settore imprenditoriale tutto il tessuto imprenditoriale non è che si crea dal nulla poi tutto di colpo perché c'è questa distruzione creatrice quindi la mia domanda non vuole essere più quella cosa lì è giusta o sbagliata me la puoi spiegare ma più che altro funziona invece dal punto di vista micro magari isolato quando può funzionare ha senso tenerla in considerazione questa frase oppure la depenniamo e la distruzione creatice di schumpeter non ha senso di esistere oh no la distruzione di creatice di schumpeter è una conseguenza logica di quel processo che ho descritto solo che non ho capito per cosa cazzo centri la liquidità la banca centrale no la citavi in quel discorso che se fallisce tutta l'attività imprenditoriale quindi il tessuto imprenditoriale muore ci vogliono ci vogliono anni per farlo ricrescere non è che ci vogliono due secondi e mezzo allora la distruzione creatrice è una cosa più specifica la distruzione creatrice è proprio l'effetto di quello che vi ho detto se Simona si inventa una maniera alternativa più efficace di fare economia su Youtube ok dove sentemelo sentemelo questo esempio cattivo mette una macchina di intelligenza artificiale che spiega Schumpeter meglio i boldrini e siccome la macchina non sopporta gli omini con gli occhiali un po' barbuti esclude sia Umberto che Nazareno e la gente piace di più perché c'è Simona da sola con una macchina che parla con un linguaggio molto articolato non dice le parolacce che dico io ed è molto più attenta al ragionamento lei distrugge l'economia Italia e la nostra capacità di vendere se noi lo facessimo commercialmente che non lo facciamo non è che nessuno mi paga anzi però se io avessi questa un'attività commerciale è quella la creative destruction cioè cerchiamo non è capito lui mette in chiaro che ogni volta che c'è un'innovazione colui che innova e per quello sottolinea l'aspetto concorrenziale competitivo colui che innova mette in difficoltà qualcun altro e in questo processo di reciproca distruzione e creazione c'è il progresso perché nel momento in cui tu metti in difficoltà me stimoli me a cercare di reagire di imitarti di far meglio e così via e lo vede come un processo decentrato che avviene ovunque quando il bar che mi fa concorrenza nella piazza del paese si inventa di fare la pericena che non c'era mai prima con gli spritz io mi rendo conto che i ragazzotti la gente del paese che prima veniva a bere gli spritz anche da me adesso ne vengono solo un po' di veramente affezionati il grosso si è spostato lì e allora dico io mi invento la peripranzo o il mio pericena lo faccio meglio di lui ok altrimenti chiudo questo descrive lui ora che poi invece in una crisi macroeconomica generale per mancanza di liquidità perché il sistema bancario ha collassato come è avvenuto nel 29 come è rischiato di accadere nel 2008 imprese anche sane finiscano moribonde perché non hanno credito per funzionare e questo distrugga un'enorme capacità di capacità produttiva che dopo per ricostruire ci metti anni è solo molto vagamente legato all'argomento schumpeteriano l'argomento schumpeteriano è proprio un argomento continuo la creative destruction è sempre in azione anche oggi anche in questo momento noi ne siamo parte a livello macro chiede Mattia Malevolti certo che vuol dire qualcosa perché è una delle cose che vuoi guardare per riuscire a capire sia la velocità a cui le economie crescono i settori crescono e sia per esempio i processi di entrata uscita dell'impresa una buona parte di entrata di nuove imprese di un certo tipo per esempio c'è tutta una serie di lavori io in mente uno sul Cile ma ce ne sono altri fatto da amici miei che mostra che per esempio quando cerchi di spiegare la crescita della TFP cilena post liberalizzazioni eccetera la grande crescita cilena diversa il grosso di questo è proprio creative destruction cioè è la crescita di TFP aggregata quando hai dati micro la disagredi viene portata da nuove imprese che arrivano con metodi tecnologie produttività prodotti migliori dei precedenti fanno uscire quindi uccidono le incombenti e aumentano la produttività del sistema quindi con un effetto macro chiunque abbia studiato la recessione la grande crisi spagnola post franco e post entrata dell'Unione Europea vede esattamente lo stesso fenomeno interi pezzi giganteschi di economia spagnola quella agricola in particolare vengono falciati perché sono assolutamente improduttivi arretrati chiudono infatti se voi guardate l'esplosione della disoccupazione è nelle regioni agricole e quelle di manifattura protetta per esempio le ceramiche e cose di questo tipo qua e però poi c'è una reazione interna per cui l'agricoltura spagnola nel sud diventa fra le più efficienti d'Europa quindi per la rilevanza aggregata in certe istanze particolari è palese a rovescio in Italia non succede un cazzo perché siccome è proibito fallere allora no no lo dico seriamente che non è il tema della serata sì sì io volevo chiedere una cosa appunto su Solo appunto il modello di SoloSwan quello più famoso è quello dove viene dato appunto il fattore lavoro il fattore capitale il residuo con il progresso tecnologico e viene dato come esogeno questa questo fattore cioè l'esogeneità del progresso tecnologico non è una condizione un po' debole nel senso che sembra prevedere che arriva la nuova tecnologia e tutti improvvisamente al tempo al tempo T più zero T zero arriva la tecnologia al T più uno tutti la sanno ad operare non è una una cosa un po' debole cioè un po' irrealistica che viene anche citata mi sembra questa cosa Michele sei muto? lo so ma lasciami dire una cosa questo lo dico seriamente dovete cercare tutti di capire che i modelli sono modelli perché altrimenti si crea una distruzione mostruosa della conversazione io capisco che alcuni poveretti che insieme non ci arrivino per cui ti dicono ma l'ipotesi dell'auctioneer del tatto umano è irrealistica testa di cazzo certo che lo è tutte le ipotesi sono irrealistiche tutti i modelli sono falsi altrimenti non si chiamerebbero modelli sarebbero riproduzioni uno a uno della realtà fatti su un pianeta parallelo fine della storia tutto tutto in un modello irrealistico il punto è capire se il grado di realismo è cogente nel senso che ti permette comunque di vedere altri fenomeni che stai studiando o è assurdo e quindi stai facendo un esercizio di pura fantasia di nessuna rilevanza quindi tutti i modelli sono falsi tutte le ipotesi sono false Dio santissimo ma questo non solo in economia praticamente ovunque a un certo grado anche in fisica perché elimini perturbazioni eccetera eccetera studi situazioni ideali poi certo i fisici avendo questo enorme vantaggio di avere un problema semplice davanti che permette di controllare in laboratorio 100 miliardi di variabili riescono a fare ipotesi molto più specifiche d'accordo chi fa psicologia chi fa sociologia chi fa economia finanza storia è costretto a tagliare con l'accetta quindi chi fa l'ipotesi della TFP esogena non lo fa perché ci crede lo fa perché studiando un'altra cosa per esempio l'impatto di variazione di produttività sulla domanda offerta di lavoro in quel momento non gli interessa ed è inutile che diventi pazzo a modellizzare l'origine della TFP dal punto di vista della domanda di lavoro a livello aggregato puoi anche ragionalmente trattarla come esogena perché alla grande maggioranza degli imprenditori l'innovazione fatta da Nazareno appare esogena non l'hanno decisa loro ok se invece voglio spiegare l'evoluzione interna di un'industria e la relazione fra noi quattro nell'attività innovativa devo endogenizzare ora qual è il problema il problema che poi delle volte l'economia come tutte le scienze va giudicata dai suoi migliori prodotti non dai suoi peggiori prodotti che sono il 95% quindi purtroppo sta roba è diventata ah che bella semplificazione adesso la uso per parlare di tutto fra cui faccio finta che è una teoria della crescita no non hai una teoria della crescita tontolone hai o ben una teoria dell'ignoranza come diceva solo correttamente o al più se lo tratti con riguardo e non te ne in amore troppo hai una teoria del ciclo che era quello che Prescott Kidland e altri hanno cercato di fare in ogni anni 80 dove poi quando il problema è diventato serio si sono scontrati con la limitazione che assumere esogeneità della TFP e basta in un certo contesto di funzioni di produzione come Douglas ti lega le mani e ti porta a conclusioni obbligate e quello è il problema quello è la soluzione realistica che delle volte devi anche capire cosa implica quando contiene già la soluzione al problema per esempio la costanza delle factor shares capisci allora è inutile che studi il problema cioè è inutile che ti chiedi studi il ciclo economico l'oscillazione quando ho già assunto che sono stabili no? capiti cosa voglio dire? sì sì io ho capito è inutile studiare l'impatto del cambiamento tecnologico sul rapporto capitale lavoro quando per ipotesi è sempre alfa su uno meno alfa mentre se mi dico ma che impatto ha una variazione della probabilità aggregata sulla domanda aggregata di lavoro beh quella è la domanda più ragionevole è questo però un giorno o l'altro vorrei farti una live vorrei farci una live su questo perché tra l'altro altra sera mi ero visto un convegno di Sargent in cui spiegava alcune cose sulla marca of chain eccetera eccetera molto interessante però non vorrei non vorrei deviare troppo il discorso so che si muoveva una domanda tra l'altro inerente a questo tema in realtà avevo una domanda dal pubblico se così possiamo dire che chiedeva la relazione tra la teoria della crescita di Solo e quella di Lucas Lucas non ha alcuna teoria della crescita non so cosa si riferisca a questo signore ma Bob non mi pare abbia mai sostenuto di avere una teoria della crescita ha alcune cose alcune più interessanti altre meno su cosa può aver causato la rivoluzione industriale o se volete ha detto o ha cercato di insistere in uno dei suoi paper più brutti e dannosi The Mechanics of Economic Development che bisognava buttarsi su esternalità per capire i fenomeni della crescita se volete parlare di quel paper io sono disposto è pubblico che faccio tutte le lezioni tutti gli anni che ho fatto le lezioni di teoria della crescita l'ho dato e dicendo adesso mi dispiace tanto perché ho un'ammirazione enorme di quest'uomo ma questo paper lo dobbiamo smontare perché obiettivamente è un paper completamente sballato e questa sarebbe una cosa interessante mi dispiace perché io ci sono anche affetti personali che uno ha è l'uomo che mi ha chiamato al telefono nell'aprile dell'86 per dirmi non sei sul mercato lo so lo so che sei solo il terzo anno però vorresti un'offerta a Chicago perché te la vorremmo fare per ormai la portata sta qua mi pare un pochino di sì ma erano di detto che era stato Bob Lucas a salire e io che credevo era Cerman lui e io credevo fosse Franco Battaglia che mi prendeva in giro perché sapeva imitare gli accenti americani perfettamente gli ho detto ma no questo è uno scherzo eccetera le dispiace se richiamo io adesso cerco il numero ero in dipartimento ero richiamato e dice ma perché cazzo hai voluto chiamare tu sono italiano c'è un gruppo di amici un po' scherzosi qui a Rochester ci prendiamo in giro continuamente siccome io non sono sul mercato c'è l'idea che Bob Lucas mi telefona e dice ma la voi è un'offerta mi sembrava un po' appesa per il culo per cui oh you don't trust people I trust people fra noi ci prendiamo in giro vabbè e quindi quindi però quella quella adesso lasciamostiare il personale poi io credo che Lucas negli anni si sia reso conto che quella cosa non andava in nessuna parte quel paper è proprio un paper dannoso sbagliato fondamentalmente ecco una domanda di Angelo Tommaso interessante le teorie dell'archista si evolvono con il passare del tempo che nella società ma come vedi non moltissimo perché fondamentalmente da 200 anni più o meno diciamo le stesse cose credo che arrivano altre osservazioni si raffinano e si impara che alcune spiegazioni banali date in passato erano erronee o perlomeno incomplete per esempio la grande cosa che abbiamo appreso è che stimolare domanda a creare semplicemente investimenti per sé non fa necessariamente crescere Michele però ci sono state delle aggiunte cioè dei modi per raffinarle un po' questi modelli cioè viene inserito appunto il learning by doing oppure il capitale umano nella voce capitale per cercare di provare a spiegare di più all'interno dei modelli quindi in un certo senso vengono aggiunte delle componenti nel tempo ma non aiutano a spiegare molto cioè se voi possiamo discutere della cosiddetta new growth theory io ho un libretto nascosto che quando avrò coraggio mi andrò in pensione pubblicherò che si intitola a gigantic waste of time ma su questo ho vested interest da un lato perché Paul Romer era il mio insegnante e appunto Bob Lucca ha saputo questo ruolo e dall'altro perché in reazione a questa David e io a un certo punto abbiamo detto guardate che c'è una maniera molto più solida di guardare i processi di crescita che si basa la cosa è molto banale tutta l'evidenza empirica dice che più competizione c'è più c'è crescita della possibilità del lavoro allora quindi arriva una domanda secondo me interessante dal pubblico da Franco con la Crai penso di averlo detto giusto ovvero il progresso inevitabile immagino a livello cregato a questo punto perché a livello italiano il progresso detto così è soggettivo magari crescita diciamo innovazione vediamo la crescita economica ovviamente non è inevitabile anzitutto perché non è che viene da Marte inevitabile che se mi casca un meteorito è sulla testa cioè una roba esterna e come come palese dal sud Italia o anche dall'Italia stessa è perfettamente evitabile basta farsi del male la eviti alla grande l'Italia ha avuto un successo mostruoso nell'ultimo quarto di secolo ha evitato la crescita economica almeno nella media in maniera direi eccezionale bravissima la Cina di Mao aveva evitato la crescita economica per almeno mezzo secolo in maniera stupenda beh almeno mezzo secolo no trent'anni se uno vuole fare il conto esatto di Mao però c'erano stati e così andando la Russia innovazione inevitabile per le imprese ma no dipende dal contesto ristoranti italiani che servono le stesse cose danno lo stesso il piccolo hotelino italiano che poi si chiede perché i turisti non vanno più che non innova un cazzo e pensa ancora che darti l'internet sia darti qualcosa di speciale invece che la stessa cosa di dare elettricità e acqua non è innovato ma anche tutte le situazioni in monopolio in Italia sai che questo mi porta un attimo inevitabile nella crescita è una roba che avviene questo mi porta un attimo un'altra riflessione che fece Schumpeter cioè spero di non sbagliare però sono abbastanza sicuro lo fece Schumpeter che era appunto sulla concorrenza nel senso che non mi ricordo in quale libro fece l'essi appunto dove fece l'osservazione sul fatto che la concorrenza non era tanto data dal numero di imprese quanto dal del fatto che le barriere d'ingresso fossero o nulle o molto basse diciamo e quindi questo può è una visione molto coerente con il suo pensiero nel senso che arriva la concorrenza arriva il nuovo entrante che entra perché sa fare le cose meglio di chi c'è già dentro in un certo senso quindi l'ho trovato molto coerente sì sono d'accordo le barriere all'entrata sono ovviamente un fattore cruciale nella dinamica pensate all'Italia il sistema delle aereoline monopolizzate di stato è crollato quando la tecnologia e un po' di regolazione hanno fatto crollare le barriere all'entrata cioè quando da un lato sono diventati disponibili c'è due tipi di aerei per fare il corto raggio eccetera e quando si sono aperti una serie di aeroporti è cominciata la concorrenza e ha fatto saltare no beh sì allora io penso che abbiamo parlate sempre voi due però io a Simone le sto scrivendo in privato mi chiede per stranarla però giustamente anche lei ha la domanda piccante ma altrimenti non la fa lei tocca a te Simone perché altrimenti faccio sempre cioè stasera c'è Lorenz stasera che fa il timidore e non ho fatto altre domande perché non ne ho altre ma no il modello di Aglione è una cosa comica e non è per niente schulpeteriano ok scusa no no dicevo che non ho fatto altre domande perché non ho altre domande al momento non le ho tenute nascoste è lì che prende appunti in realtà c'è un quaderno davanti è probabile va bene io penso che l'ultima cosa non 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 approfondita di quello che hai citato all'inizio perché poi alla fine ci siamo basati tanto su quello che hai detto all'inizio la questione relativa io ho tenuto verso la fine perché è più un interesse personale che quant'altro il litigioso solo Robert cos'è esattamente che citavi all'inizio un litigio non so controversia chiamano come non vuoi non lo so più di questo io chiederei no no non mi hai detto cosa tu puoi riferire perché adesso c'è un momento una cosa che devo aver detto prima ripeti all'inizio parlavi di una sorta di controversia tra immagino a questo punto tra solo e la nuova macroeconomia classica no 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 tra solo e e e il mondo lucas c'è c'è un emica iniziata attorno al settanta sessantanove in realtà con le cose di rapping eccetera rush expectation è continuata per tutti gli anni settanta solo ha preso una posizione molto pubblica in alcune cose anche molto dura avversa alla ai contributi di prima sargent lucas e barro e poi di prescott in particolare i due tra prescott e solo hanno un rapporto pessimo ma lì c'è anche un problema di personalità caratteri stili però nulla a che fare con la teoria della crescita ha a che fare con opinioni molto diverse di come si fa economic policy advising e cose del genere si non è molto interessante più interessante io credo per capire il dibattito fra i cosiddetti keynesiani e i cosiddetti non keynesiani si anche se lì apriamo apriamo un vozzo di quanto scientifico è limitato diciamo così si anche perché mi sembra di capire che prescott è molto lontano alla visione anzi è molto più vicino alla visione montelliana dell'euro prendiamola così non è tanto convinto che una politica fiscale unita stile federalismo fiscale possa essere una buona soluzione quello che ho capito poi dovrei approfondire anch'io ma non ho fatto economics ho fatto aziendali io queste cose le faccio più per diretto che altro umbe metti in evidenza il commento di Giorgio Arfaras assolutamente quale dei tanti ah l'ultimo ok avrei da ridere la maggior parte della barriera dell'entrata combinata con la capacità delle imprese maggiori di investire sono secondo Schumpeter una nuova caratteristica meglio detto è la fine del capitalismo ottocentesco non so mi sembrava di averlo citato bene però magari sbaglio cioè non può essere che l'abbia citato male io non voglio no credo di capire cosa si riferisce a Giorgio se Giorgio vuole venire qua mettiamo il link così anche lo vedo lo saluto assolutamente assolutamente credo che Giorgio si riferi al Schumpeter che io ho detto che era stato aveva bevuto acqua cattiva per troppi anni e si era fatto prendere e cioè quello di capitalismo socialismo e democrazia e cioè l'idea che ci vogliono i monopoli ci vogliono le conglomerate ci vuole allora Giorgio leggo attenta a me leggo scusa no è così non ho capito cosa vuol dire cioè nessun che ho detto sbagliato o che è così sì allora cerco di spiegare allora se voi a un certo punto perché Schumpeter viene che se leggete Theory of Economic Development Theory of Business Cycle vi sembra un apostolo quasi della concorrenza della competizione delle non barriere all'entrata bla 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 viene viene visto popolarmente invece come un grande difensore dei monopoli tant'è che questo modello di Aghione Owitt che qualcuno prima ha menzionato è un modello banalissimo in cui l'innovazione è prodotta da una sequenza di monopolisti cioè uno di voi ha il monopolio in questo sì Schumpeter vecchietto decisamente vecchietto ossessionato dal comunismo dal socialismo e dall'idea erronea che la Russia di Stalin che ha terrorizzato gli Stati Uniti tra gli anni 40 e 50 la Russia di Stalin prenderà il dominio mondiale perché stanno facendo progressi enormi e che gli Stati Uniti a causa della depressione della crisi l'Occidente libero a causa della lunga crisi post 29 soccomberà perché il mercato e il capitalismo producono depressione guardate che questo fenomeno bisogna mettersi per chi Keynes è così famoso è perché dovete pensare al mondo occidentale nel 1935 o anche 46 questo richiederà abbiamo 10 minuti dopo io devo andare però dovete pensare allora quel mondo lì è un mondo terrorizzato cioè ci sono i fascisti in Italia Franco sta cominciando adesso 36 e vince la guerra civile in Spagna d'accordo loro sono in una crisi economica specialmente negli Stati Uniti che dura ormai da anni di depressione con altissima disoccupazione in tedesca è appena andato al potere Hitler e c'è questa esplosione hitleriana che alla fine è come dire economia centralizzata sia chiaro che sia fascista o comunista dalla Russia arrivano racconti miracolosi anche se parzialmente falsi sull'acciaio e la grande crescita staliniana ok dopo c'è la guerra in cui tutti si rendono conto che il contributo russo soprattutto di uomini è di freddo perché poi i cararmati e gli aerei certo ha ragione Giorgio i cararmati e gli aerei li facevano nelle fabbriche del Midwest c'è appunto la necessità di allearsi con i comunisti per fermare il male maggiore cioè Hitler ed esci dalla guerra in cui la Russia sembra un modello di efficienza perché le piale le purghe sono roba che forse sanno nei servizi segreti ma l'opinione pubblica non sa poi vabbè l'effetto Sputnik adesso mi ricordo che a Noè viene dopo la pubblicazione del libro in questione però la overall impression è che il mercato così detto chiamatelo come volete il sistema di libero mercato occidentale è in grande fallimento che le economie centralizzate fanno molto meglio che occorre la pianificazione che occorre lo stato imprenditore sia esso fascista o comunista non fanno neanche tanta distinzione alla fine tenete conto che l'esperimento chiamiamolo così di economia corporativa a Mussoliniano viene preso in serissima considerazione negli Stati Uniti di Roosevelt ok e Mussolini l'idea del corporativismo viene di fatto anche in parte adottato parte della adesso non bisogna andare nei dettagli ma se voi vi guardate le politiche economiche degli anni 30 rusveltiani sono molto basati su una logica di questo tipo alle grandi imprese io do poteri di monopolio o di oligopolio li lascio che facciano coalition purché accettino di trattare con i sindacati le corporazioni che dall'altra parte fanno una specie di bilateral exchange fra gruppi monopolistici e questo mi permette di avere un'economia che controlli ok quindi questa visione c'è molto allora Schumpeter fra gli altri dice io c'ho un problema voglio salvare la libertà perché sono liberale c'ho la libertà individuale però riconosco che l'economia pianificata fa meglio e quindi teorizzare che ci vuole la conglomerate che se hai la grande impresa allora c'è tempo per pianificare che solo le grandi imprese hanno di poche che riescono a pianificare come il regime socialista e che quindi se invece di fare il socialismo il gosplan il piano centralizzato facciamo un'economia di monopolisti di quasi monopolisti nei settori chiave gli diamo il potere di esserlo e dall'altra parte accettiamo che ci siano i sindacati che fanno il monopolio e la forza lavoro abbiamo e a Musa anche i 60 franchi come dicevano nella campagna padovana quando ero ragazzino e cioè abbiamo entrambe le cose ci teniamo la libera sì sto descrivendo quello che purtroppo è la divisione di nuovo la divisione ci teniamo una qualche forma di liberale democrazia ridotta molto poco cioè ridotta al fatto che c'è la proprietà privata per il monopolista fortunato e che leggiamo i parlamentari in qualche forma che poi vanno a decidere dei nostri destini su praticamente tutto e però abbiamo il piano abbiamo la stabilità non abbiamo le depressioni create dal mercato è un Schumpeter molto pessimista e questa è la visione dominante negli Stati Uniti fino a quando ma va detto fino a che se c'è un contributo di Reagan fino alla fase inizio anni 80 quando dopo Afghanistan una dice cazzo ma forse sono loro la tigre di carta forse non stanno in piedi forse tecnologicamente sono una cacca forse la loro gente vive nella merda e mangia poco forse siamo noi avanti e loro indietro e non ce ne eravamo accorti l'ho fatta super breve ma insomma è così certo certo non so se Giorgio che se cose le conosce almeno tanto quanto me anche meglio concorda ma secondo me è abbastanza così magari se Giorgio ha voglia si può organizzare un incontro assolutamente noi noi ragazzi della risposta 24 siamo assolutamente disponibili come fecimo per Pino anzi magari ci capita un Pino 2 siamo contenti anzi Pino ci sta ascoltando di turno che tiene fuori con la scuola di Friburgo io adoro le parrocchie la scienza come partita di calcio come campionato della scuola di Friburgo io non so andrei in chiusura allora ragazzi visto che comunque siamo già verso l'ora e 20 così almeno questa live secondo me è ricca di contenuto spero di aver spero che abbiamo reso un servizio sociale mettiamola così come siamo belli commi giusto per chiudere tutte le etichette possibili e niente io ringrazio Michele ringrazio i miei compari e vi auguro una buonanotte ciao a tutti grazie Michele grazie a voi è stato un piacere mi fate proprio fare lezione delle volte ah scusa ho tolto schiacciando bottoni ho tolto Simona senza volere va bene sì grazie mille ciao a tutti un saluto in particolare ovviamente al mio amico Giorgio Alfarras che non vedo da veramente tanto tempo cosa ha scritto Giorgio aspetta che Giorgio è un uomo saggio troppo modesto bravissimo si ricorda che il titolo è quello spettacolo dai lo invitiamo allora buonanotte grazie a tutti